eravamo rimasti che stavo raccogliendo un po' di terra perchè abbiamo trovato la pietra e con molta probabilità entro a fine di questa giornata probabilmente saranno cresciti ancora abbastanza alberi così almeno mi comincio a creare una casa ricordando la lista degli accenni si può dire che ancora non ne ho preso nessuno della lista in questione ma io credo che non è che ci sia un limite di tempo penso che praticamente quando uno arriverà ad avere materiali sufficienti per iniziare potrà portare a termine la prova nel frattempo io dipendo molto da tutti questi alberi che devono crescere quindi mi auguro che la continuazione vada spedita non mi porto tutte le costolette a presto perchè visto che qui schiattare è facilissimo mi dispiacerebbe perdere tutto quello che vi ho eliminato però adesso io voglio capire visto che tutti sti schiattini vengono da questa parte qua il mio dubbio è che in questo punto ci sia uno spugno quindi voglio provare a scavare per vedere se riesco a trovare qualcosa così per lo meno incomincio a debellare uno spugno alla lista e qua io sento che c'è qualcosa esistono quelle zombie oh se ci sono spugno di zombie tranquillo lui subo subito ma io sento che stanno qua in giro ma non riesco cazzo mmmm alieni di merda questa è una cosa che avrei dovuto fare molto tempo fa almeno in questo punto non dovrebbe esponare niente almeno ho un margine di sicurezza e visto che anche questo venerebbe spuntato muova legna sinceramente raccogliere legna è necessario però è anche un po' palloso era in dubbio se queste parti le tagliate o le facevo vedere ma visto che è una mappa penso che al massimo quando è troppo non dico troppo noiosa una parte questo perché la taglierò oppure la velocizzerò la velocizzerò in modo da far sì che non si perda per strada qualcosa e ora piantiamo alberelli germogli a ruta di quello sicuramente qualcuno crescerà nel frattempo e con un po' di fortuna magari riuscirà a noi degli alberi incasinati da tutte le parti allora io ora vorrei continuare un'altra volta il mio progetto perché io sono sicuro che da queste parti ci deve essere uno spawn e col culo che mi ritrovo vuol dire che l'ho già trovato e infatti il primo spawn di silverfish e voilà il primo è stato tolto dalla lista ne rimangono 17 e sei tutta la pala forse vieni piccolo ecco qua dai esci fuori che ti faccio io ne sento altri vuol dire che stanno nascosti oh i creditori della mempasi sono proprio sbizzarriti per fare per fare sti frappone eh chi se cado giù faccio una brutta fine, e là c'è un passaggio, se lo hanno fatto è perché vogliono in qualche modo che qualcuno costruisca un qualcosa e poter raggiungere con l'apertura, e quindi apriamo un bel po' di terra e vediamo di costruirci un ponticello per passare, il barato, comunque questo barato, mi sa che più avanti è stato costretto a esplorarlo, facciamo piano, sperando che non ci siano quelli otti in culo di scheletri che cerchino di impeccarmi a volo, piano, piano, bastardo, piano, facciamo luce, ragni, ma sulle tarantole non sono agli venenosi, meno male, ma come cazzo ci sono arrivati le ragni, aspetta, non è vero, ne sento più di uno, di danni, facciamo una cosa, ti mettiamo in ben sicurezza il passaggio, così non posso capire, e adesso vediamo che ci sta, oh oh, ce ne stanno due, ci sta, ma quella è una torta, da cui cazzo sono uscito, cazzo quando ce ne stanno, vedo una cosa, è meglio mettere una luce qui, sistemiamo bene, e ne mettiamo una luce, cazzo, un po' incasinato, il passaggio, allora, prima, livelliamo il terreno, e sto cazzo, dai, è crepa, allora, livelliamo il terreno, così da non fermo, ecco fatto, ma io quasi quasi, mi aspetterei che spugnino, così con legno le cordicelle mi potrei fare un primo accident, marco, creare marco, sì, però se non faccio attenzione, mi prendo una tumba, allora, un attimo, io pecore ancora non le ho viste, però con le cordicelle, e già, mi ricordavo bene, fino al cubo di gana, credo proprio che, dovrò aspettare un po' qui, e cercare di farmi droppare altri fini, così, e voilà, mi sono fatto la vana per farmi un letto, sì, ho pelato un taglio, ma, perché mi sono rimasto quasi un quarto l'ora, non volevo certo farmi vedere un quarto l'ora di ammazzamenti di animi, per comunque, adesso che ho fatto, mi procuro altro legno, Gli alberi sono cresciuti in frette, ...druppasse la mela sto albi di peggio, che cazzo! Si è batto un sacco di albi di fermo, ma mela è proprio avanabile! Vino con la mela, se la barra ancora non piena, da dire! Quattro alberelli, che verranno immediatamente ripiantati! E va bene, il letto è pronto! L'ingonio... Sì, ma con l'ingono penso che dovrò incominciare a indistirla per farmi la carboniera! E ho finito la carboniera! Vabbè, facciamo così! Il primo carbone che esce, vedo di farlo diventare combustibile! Eccolo qua! E vai, a ciclo continuo! Stecchetti come se pioisse! E adesso ci facciamo le scale! Così in questo modo possiamo anche incominciare a creare un percorso più agevole per scendere in giù! Sì, si potrebbe pensare che è uno spreco di legno adesso, a tale tante scale, però devo scendere molto in profondità, quindi voglio avere la possibilità di evitare di fare l'acrobata! E voilà! E con questo è il mio figlio! Mi rimasto anche giusto giusto! Due bastoncini perché l'hanno in alto per misere! E quindi... Andiamo di pala! Ok! Questo è opposto! Il carbone continua... L'albonello continua a farsi! E l'albero è cresciuto già! Però voglio aspettare... Magari... No! No, no, no! Meglio farlo subito! No! 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 No, no! Non lo sfacciono! No! 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 la produzione di carbonella è a tutta rigida. Va bene, che adesso rifaccio. Ehhh... In questa fase di gioco la noia è veramente grande. Per cui... Primo achievement preso. Ho fatto l'arco. Che mi posso tranquillamente sbattere sul cazzo, visto che non tengo frecce. Fili a modo... scheletri non ne ho visti. E questo albero qua? Sì, è cresciuto quello là ramificato. Questo mi darà un sacco di legna. Ma proprio un sacco di legna. E mi sa che devo salire sopra. Sicuramente ci vorrò un casino di tempo per potermi... rompere tutto. Per cui... per il prossimo video vi volete seguire. Vi faccio il sistema a tutta la cosa. E se l'ho saltata questa parte. Comunque per il momento me lo spiano ben bene. mele no, eh? Se devo taccare di mele questa volta, eh? Vabbè. A profitto di questi pochi altri minuti che mi restano prima del video si concluda per chiedervi. se mi potete dare qualche consiglio su come procedere. Essendo una mappa recreata da altri, non saprei... fino a mo' ho fatto tutto a istinto. Se volete dare un consiglio lo accetto volentieri. Lo stesso. Se vi piace, mettete mi piace. Se non vi piace, mettete non mi piace. Se gradite questi video, supportateli e iscrivetevi al canale di Paradosso. Ok?